Ecco la perga mia. Il Concebio Comunale è di un'intesi, l'8 maggio di 14, in seduta pubblica, che sono corte in area della confocazione, ai sensi del Regolamento Comunale per il conferimento dell'ecezionanza onoraria, approvata a nome delibere dalle commissioni assalzionali del 23, il 22 marzo del 2012, il 23 marzo del 2012, ha conferito la cittadinanza onoraria alla dottoressa Francesca Moschiavo. Leggo ancora per le notevolissime capacità professionali nell'impegnativo campo scenografico che hanno consentito, per me tre volte, di conquistare la mosca nell'ambitamento cinematografico di Olio. Inorgogliscono questa città che ha dato i Natali al nonno Pasquale Moschiavo, conte di Pontalto. Tutta la comunità navarrovese riconosce nell'opera svolta dalla dottoressa Francesca Moschiavo quel grande talento e quello spirito di genialità che ha contraddistinto i suoi alterati. Grazie. Il vicessindaco Melantone consegna una targa per la cittadinanza logicamente la nuova volta per un mese in quale non vuole. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.